buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale io sono giovanni e oggi insieme andremo ad effettuare i passi che servono per far continuare a vivere a crescere queste piantine in questo caso di basilico quando le compriamo al supermercato seguitemi iscriviti al canale Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.